Claudio Nardocci è l'assessore Porro qui per parlare di appuntamenti estivi. Dopo due anni di pandemia, emergenza sanitaria, lockdown e quindi le restrizioni, finalmente torna un appuntamento tradizionale della città ladispolana, il simposo etrusco. Sì, finalmente ritorniamo ad esprimere la nostra storia, a raccontare bene la nostra storia, le nostre origini, le nostre radici che erano meravigliose, importantissime, quindi etruschi, romani poi e lo facciamo con il simposio che era la manifestazione più importante che veniva organizzata in occasione dei grandi avvenimenti. Quindi c'era questo grande banchetto e intorno c'erano degli spettacoli che noi riproponiamo, quindi ballerine, giocolieri, agrobati, giocolieri col fuoco. Una cosa molto bella, molto interessante, è veramente sempre un'emozione vederla. Quindi vi consigliamo domani sera, 10 agosto, notte di San Lorenzo e cadono le stelle e si riavverano i desideri. Il nostro desiderio era di riproporre il simposio per voi. Sicuramente un'estate piena di appuntamenti con un assessorato preso a ridosso proprio di questo appuntamento. Tra l'altro il primo senza nessun tipo di restrizione. Sicuramente abbiamo cominciato un po' di corsa, ovviamente buon Claudio è un collaboratore fidato una certezza per noi, quindi non c'è bisogno nemmeno di troppo confronto. Viene tutto in modo molto naturale, in modo molto spontaneo. L'estate ancora non è finita, manca ancora un mese, noi speriamo che duri ancora per tanto tempo perché ci stiamo divertendo. E quindi fra le altre cose uno degli appuntamenti più importanti ci tenga sotto in area è solo la, oltre a tutti gli episodi, insomma gli eventi che ci sono adesso durante il mese di agosto, la festa di fine estate con Cristina Dapena il 30 agosto. Intanto domani, 10 agosto, notti di San Lorenzo, la certezza Claudio Nardocci sta sul palco in piazza col simposio etrusco e non possiamo assolutamente mancare. Assessore, ultima battuta, ovviamente l'estate è importantissima perché in città si riversano tantissimi turisti, tantissimi romani in vacanza, ma si sta già pensando anche al cartellone invernale. Allora, più che cartellone invernale l'obiettivo è quello di far sì che ovviamente con le dovute proporzioni un flusso turistico sia costante nella città, ovviamente d'estate amplificato in maniera esponenziale, però anche ci sono diverse tappe da percorrere durante tutto l'anno, fra cui uno dei più importanti è il Natale che già ci stiamo lavorando.